Ares, facciamo il problema, vai, leggi, leggi, ok, bravo, scriviamo i dati, dai. 10 paquetti, di caramelle, caramelle, ok, ok, vai, perfetto, che operazione dobbiamo fare? 10, più, bravissimo, vai, scriviamo, 10, più, qual è l'altro numero? 8, bravo, fa la mente, eh? 18, giusto, ok, adesso cosa dobbiamo scrivere? Risposta, bravo, che risposta diamo? La domanda cosa dice? Quante cose ha comprato in tutto la mamma? Quindi? Quante? Come rispondiamo? La mamma, bravo, dai, la mamma, la mamma, la mamma, ha comprato 18 caramelle. No, 18 cose. 18 cose? Sì, vai, e riscrivilo. La mamma. Ok. Questa è una cosa, ma... Hai detto, ma lì? Ha comprato. Bravissimo. 18. Ok, bravo, batti il 5, bravo Ares. Devo una mano a favore.